Quest'anno sarà molto dura perché i campionati di A1 e A2 sono saliti molto di livello per cui c'è una grande competitività. Noi quest'anno affronteremo con i nostri ragazzi proprio per farli crescere e per creare il futuro per il nostro circolo. Ci saranno solo giocatori campani e molti napoletani nella squadra di serie A2 del Tennis Club Vomero che prenderà parte al campionato nazionale di tennis. Oggi a Palazzo San Giacomo è stata presentata l'attività di formazione che ha portato il circolo centenario di Via Rossini anche al primo posto in campagna nella speciale classifica delle scuole tennis d'Italia, nella categoria Super School per il 2021, così come i progetti di inclusione come l'appuntamento del prossimo sabato 19 novembre che coinvolgerà bambini affetti da spettro autistico. In questo momento il tennis italiano ha avuto una grossa crescita grazie anche al lavoro fatto dalla federazione. Anche noi stiamo lavorando con la nostra scuola tennis che è stata insegnita come prima Super School campana per il 2021 e quindi il nostro forzo è proprio quello di cercare di trovare nuovi talenti, nuovi campioni. Bene che siano venuti qui questi ragazzi, così li conosciamo tutti e li presentiamo alla città di Napoli. Avere dei ragazzi in serie A2 e che sono soprattutto tutti napoletani o campani è davvero una grande soddisfazione e quindi sicuramente abbiamo a che facciano sempre meglio e saremo vicini in questa loro scalata, in questa lotta verso la serie A, magari la serie A1.